e parliamo di questa due giorni insieme al professore vincenzo patella che abbiamo in video collegamento e che ringraziamo ecco per la sua presenza all'interno di sette live il dottore vincenzo patella e direttore dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di battipaia ma con la specializzazione in allergologia ed in immologia clinica allora dottore un importante due giorni poi arriveremo anche al tema che sarà un po al centro di questo convegno nazionale ovvero i temi legati all'emergenza covid intanto partiamo ecco da questa dall'organizzazione di questa due giorni all'hotel l'ariston di pestum se quest'anno ottava edizione siamo particolarmente onorati perché l'evento sarà in presenza e dopo 18 mesi di eventi fatti in remoto con con il sistema delle videochiamate è diventato sempre più importante avere la possibilità di di potersi incontrare con con grandi esperti del del settore in presenza e quest'anno l'edizione sarà arricchita dalla presenza del comitato scientifico della società italiana di allergologia asma immunologia clinica che a livello nazionale ha indicato pestum come tappa per fare il punto sulla situazione pandemica e post pandemica quindi il ruolo delle allergologi delle immunologi clinici e che hanno svolto in questa campagna soprattutto vaccinale contro la pandemia e quello che ci aspetta chiaramente dopo questo periodo pandemico ci saranno a confronto i maggiori esperti dottore si avremo veramente da tutte le scuole italiane partendo insomma dal nord ma tutto lo stivale rappresentato quindi le scuole di milano di genova verranno colleghi ovviamente la scuola napoletana ci saranno tre presidenti di società scientifiche e il presidente della società scientifica di malattie dermatologiche il presidente della società scientifica appunto di allergologia immunologia clinica e il presidente degli otorini proprio perché si vuole in questo due giorni provare a fare delle sessioni multidisciplinari per affrontare meglio quello che è successo e quello che ci aspetta ovviamente dopo la pandemia allora dottore che momento stiamo vivendo allora che momento abbiamo affrontato approfittiamo della sua presenza al di là della presentazione anticipiamo anche un po' che momento da quale momento usciamo e che cosa ci aspetta allora per non addetti ai lavori e tutto questo che sta accadendo ovviamente è motivo di novità per gli addetti ai lavori un po' da quando è scoppiata la pandemia noi avevamo degli scenari ovviamente non precisi di quello che poteva accadere ma sapevamo benissimo insomma del virus con cui dovevamo in qualche modo competere noi del mondo sanitario e sapevamo che sarebbe stato caratterizzato da delle ondate dopo una pandemia accade questo scenari futuri e c'è il periodo si passa dalla pandemia all'endemia cioè il virus incomincerà ad essere stabile non darà più delle fasi acute eh come probabilmente abbiamo assistito abbiamo letto informato attraverso i giornali anche l'opinione pubblica eh ma dovremo mantenere quanto più possibile liberi i centri di assistenza quindi parlo le rianimazioni soprattutto e ovviamente ehm i luoghi per i ricoveri ordinari eh per poter accogliere le persone che non vaccinate eh possono avere eh delle reazioni eh gravi all'infezione mentre sappiamo che coloro che eh continuano a mantenere una protezione vaccinale eh possono avere soltanto delle reazioni minime all'infezione questo ci dà ovviamente il conforto da un lato però dall'altro lato ci impegna il periodo pandemico a trovare una soluzione definitiva e probabilmente la soluzione definitiva verrà sempre dalla scienza dalla ricerca e sarà appunto il farmaco il farmaco antivirale che ci permetterà eh di distribuirlo in modo più semplice a tutta la popolazione per qualche istante il dottore Patella vediamo di ripristinare il collegamento ci stava appunto ehm dando ulteriori informazioni su quello che è il delicato momento legato ancora all'emergenza covid e l'importanza della vaccinazione ecco dottore l'abbiamo persa per qualche secondo prego sì sì no volevo completare il discorso dalla dall'endemia poi si uscirà sempre grazie alla scienza che dovrà eh attraverso le ricerche fornirci quello che sarà il farmaco antivirale quindi il farmaco che ci permetterà di sconfiggere ecco arrivano telefonate quindi eh probabilmente per questo si interrompe il collegamento ecco ecco qua dottore quindi lei ci sta ribadendo l'importanza l'importanza della vaccinazione giusto? Assolutamente sì perché questo ha piegato completamente la curva più brutta che vediamo continuamente che era la curva ovviamente dei dei casi di di decessi giornalieri che è stata completamente abbattuta di quasi eh due logaritmi eravamo arrivati a delle punte che sfioravano eh le migliaia di morti al giorno eh si parlava addirittura di tre quattro aerei che precipitavano ogni giorno in Italia di morti e oggi invece abbiamo una curva molto molto più bassa eh che si mantiene attualmente si sta un po' riprendendo ma sicuramente si mantiene insomma due cifre sotto i cinquanta. Allora dottore approfittiamo davvero l'è stato anche in prima linea presso l'ospedale di Battivaglia ecco durante la fase più acuta dell'emergenza nel reparto covid quindi davvero importante ecco eh la sua testimonianza questa mattina chi ancora oggi c'è un aumento di casi anche nel sul nostro territorio siamo assistenti a quanto sta accadendo nel comune di Centola Palinuro siamo arrivati a circa trenta casi molti bambini quindi molti ci chiedono eh ribadite l'importanza della vaccinazione però continuiamo a contagiarci. Allora dottore eh approfittiamo di questa sua presenza ecco per continuare ad informare e a dare le giuste notizie. Allora dobbiamo precisare che tutti noi sanitari sia quelli della sanità privata sia quelli della sanità pubblica siamo stati chiamati in prima linea a combattere il covid. Per quanto riguarda i reparti covid in provincia di Salerno è bene ribadirlo erano il presidio di Dieboli, il presidio di Agropoli e il presidio di Scafati e compresi ovviamente i ruggi con l'ospedale d'Aprocida erano i nostri riferimenti per i ricoveri eh diciamo covid. È ovvio che tutti abbiamo partecipato a fare diagnosi e poi ad assistere mh immediatamente per poi ricoverare questi pazienti in questi centri di ricovero e cura. Eh quello che abbiamo fatto noi poi successivamente è stata la campagna vaccinale. La campagna vaccinale mh oggi per il successo che ha avuto eh ci ha dato paradossi. Oggi sono molto più sicuri i luoghi pubblici perché nei luoghi pubblici immaginato immaginiamo il cinema immaginiamo anche lo stesso ristorante eh sono luoghi sicuri perché perché si accede grazie al Green Pass quindi è bene portare sempre con sé questo Green Pass perché è una sorta di tutela sia per chi vi accoglie in un luogo in un luogo pubblico e sia ovviamente per eh gli altri commensali ad esempio se si è in un ristorante. Quello che invece oggi è pericoloso è proprio sono eh i domicili privati dove si organizzano eh feste private in casa dove si organizzano eh incontri tra giovani privati dove non viene chiesto il Green Pass e quindi eh eh può eh sfuggire il controllo e quindi persone non vaccinate possono essere i cosiddetti traghettatori e untori eh del del virus e quindi essere capaci come è successo appunto lei citava la situazione della zona di Palinuro quello che è accaduto anche lì. Ecco eh positivi tanti bambini ancora non abbiamo iniziato ecco la vaccinazione proprio si inizia dai 12 anni in su vero dottore? Attualmente sì però abbiamo una buona notizia eh la buona notizia è questa che eh potremo incominciare a vaccinare tra poco anche i bambini dei 5 agli 11 anni eh aspettiamo l'ok di AIFA perché EMA già eh sarebbe l'ente europeo per l'agenzia del farmaco ha già ha dato già la sua eh dato già il suo ok eh aspettiamo adesso che l'AIFA l'agenzia italiana del farmaco dia l'ok possiamo incominciare a vaccinare anche i bambini dei 5 agli 11 anni e lo faremo sempre con un vaccino Pfizer eh però ha un dosaggio più basso un terzo diciamo di quello attuale. Quali sono le domande eh eh le preoccupazioni ecco ancora i dubbi che arrivano la sua attenzione anche attraverso i suoi pazienti dottore è chiaro che ne sentiamo tante ogni giorno ecco una versione diversa qual è la la preoccupazione più grande anche sicuramente l'incertezza del futuro che cosa accadrà dopo ecco ma eh la domanda che più spesso le viene rivolta che eh la domanda che maggiormente le viene rivolta in questi giorni? Sicuramente è la paura dei vaccini eh ma la paura dei vaccini è qualcosa di normale ehm l'uomo ha paura dell'ignoto quindi ogni volta che ha a che fare con qualcosa che non conosce eh ha paura e questo è un po' come dire il filo conduttore di tutte le persone che incontro e che ecco abbiamo ancora problemi con il collegamento è chiaro che siamo a metà mattinata quindi le arrivano le telefonate di buon mattino dottore allora diceva? Sì sì eh eravamo sulla questione della paura eh spesso le persone che vengono da noi che non sono ancora vaccinate e perché hanno paura hanno paura dell'ignoto hanno paura delle cose che non si conosce è una cosa umana eh però l'aspetto più importante è quello che queste persone spesso si documentano eh per motivi vari e sui social ed è un po' la cosa più sbagliata eh quello che invece è opportuno fare è parlare col proprio medico curante o con uno specialista che sicuramente potrà accogliere il caso prendersi in carico del paziente capire qual è la problematica che gli impedisce di vaccinarsi eh ed essere sempre più consapevole che invece la vaccina per sé ma sicuramente anche per gli altri per i propri cari eh immaginiamo quando in una casa arriva un virus e trova persone superiori ai 60 anni eh si rischia praticamente di fare i morti. Allora ultima domanda e poi ricordiamo l'appuntamento allora eh sicuramente eh sarà uno dei temi al centro di questa due giorni come abbiamo affrontato ecco questa pandemia non solo noi in ambito locale ma ecco come l'abbiamo affrontata dottore un po' a livello eh generale soprattutto che cosa ci aspetta dopo l'emergenza covid e come ne usciremo se speriamo insomma di uscirne quanto prima? Vabbè se vogliamo fare un confronto anche con gli altri paesi della comunità europea l'Italia ha risposto veramente alla grande eh ogni regione si è fatto carico di eh organizzare eh una propria mh organizzazione vaccinale e ovviamente coordinati a livello nazionale eh dalla protezione civile in capo al generale dell'esercito Figliuolo e abbiamo avuto la possibilità devo dire grazie a Figliuolo di avere eh una maggiore eh e costante soprattutto fornitura dei vaccini che era un po' il vero problema iniziale quando addirittura eh dovevamo vaccinare con tre vaccini diversi eh vi ricordate parlavamo del eh dell'AstraZeneca parlavamo del eh del Moderna poi è arrivato il Johnson adesso invece abbiamo la possibilità grazie alle forniture eh costanti di poter vaccinare sempre e comunque ehm le persone che desiderano farlo con con il Pfizer che si è dimostrato tutto sommato un vaccino molto sicuro eh molto sicuro perché lo dicono i numeri eh abbiamo tre eventi avversi ehm ogni centomila eh somministrazioni immaginate che il mio centro quello che dirigo direttamente qui a Battipaglia oltre a coordinare ovviamente quelli sul territorio eh abbiamo somministrato oltre cento quarantacinque mila dosi tra prime e seconde e attualmente stiamo facendo anche le terze dosi e abbiamo avuto soltanto tre eventi avversi per eventi avversi seri intendiamo persone che sono state costrette poi a rimanere qua in ospedale dove abbiamo dovuto somministrare dei farmaci per 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 scongiurare la reazione eh ma di fatto praticamente eh non c'è stata nessuna reazione seria che ha necessitato poi del ricovero. Allora dottore rinnoviamo l'appuntamento con l'ottava edizione di questo importante convegno scientifico eh responsabile appunto il dottore il professore Vincenzo Patella ehm abbiamo detto saranno presenti ecco gli esperti che arriveranno un po' da tutta Italia ma a chi a chi a chi aperto chi può partecipare dottore? Eh l'evento come tutti gli anni ehm ha la caratteristica del forum cioè eh tutti coloro che eh fanno parte del mondo della sanità quindi è diretto tra gli specialisti eh medicina interna, pneumologi, cardiologi eh dermatologi, pediatri e rivolto anche ovviamente ai farmacisti e biologi e agli infermieri. Eh come dicevo all'inizio saranno presenti tutte le scuole eh mediche più importanti italiane che con i loro rappresentanti porteranno le ricerche più innovative le eh informazioni più attuali in campo medico e scientifico e eh si avrà la possibilità nella proprio nell'organizzazione tipica del forum del confronto diretto tra coloro che fanno la medicina sul territorio quindi tutti i giorni eh con questi grandi esperti che possono eh sostenere rispondere e sostenere la loro attività sul campo eh anche da un punto di vista clinico. Allora dottore grazie davvero per questo suo collegamento possiamo darci appuntamento dopo la due giorni per eh continuare ad e ad informare anche su quelli che saranno ecco eh i risultati. Grazie a voi. Io vorrei anche ringraziare ovviamente eh io se per me ti permette dottorissa vorrei ringraziare anche la mia azienda che è l'azienda sanitaria locale eh e ovviamente tutti coloro che insieme a me collaborano ogni giorno quindi da eh dai miei stretti collaboratori medici della della medicina interna, dell'allergologia, dell'immunologia clinica, della gastroenterologia e della premologia e ringrazio ovviamente anche tutta la classe infermieristica, ho un gruppo fantastico di persone che hanno lavorato e lavorano tutti i giorni per aiutare eh le persone a curarsi sempre meglio. Questo è un po' eh l'evento per noi eh come dire è un po' il fiore che si mette sulla giacca quindi il famoso fiore all'occhiello che però insomma è anche un riconoscimento per tutta la sanità salernitana avere eh questo riconoscimento nazionale da parte delle società scientifiche che si riuniranno a Pestolo domani e dopo domani. Ci uniamo a questi suoi ringraziamenti. Grazie dottore. Allora noi ringraziamo lei naturalmente ringraziamo le tante persone che quotidianamente l'affiancano per eh garantire ecco garantirci il diritto alla salute. Grazie dottore Patella e eh con lui ci fermiamo ecco ehm finiamo qui ci fermiamo qui per quanto riguarda le edizioni di Sette Live. Restate con noi tra qualche istante torna il Tg7. Grazie, arrivederci.